Romina Carrisi incinta. Ho paura, ma sono molto felice. Romina Carrisi annuncia ufficialmente a Verissimo che presto diventerà mamma. Sono incinta di cinque mesi e mezzo, afferma la figlia di Albano e Romina Power. E svela la data presunta del parto, dovrebbe nascere il 14 gennaio. Romina Carrisi ha scoperto di essere incinta mentre si trovava dalla sorella Cristel in Croazia. Ho fatto il test di gravidanza ed era in croato. Quindi sono uscita dal bagno urlando in croato che ero incinta. Romina è legata a Stefano Rastelli da un anno e mezzo. Abbiamo iniziato a convivere quasi da subito. La Carrisi, 36 anni, condivide la gioia della prima gravidanza. Lo volevamo entrambi, ma non nasconde le paure, non sono pronta, anche se ho aspettato tanti anni. Ho paura, ma sono molto felice. So che posso contare sulla mia famiglia che mi starà vicino. Romina Carrisi, la figlia di Albano e Romina Power, ospite di Verissimo ha reso pubblica la sua prima gravidanza. Classe 1987, nata a Cellino San Marco, è fidanzata con Stefano Rastelli da circa un anno e mezzo. Io mi trovo a mio agio con lui. Per me è perfetto nelle sue imperfezioni, ha raccontato l'attrice a Silvia Toffanin. Lui è già papà di due ragazze, Emma e Lola, nate da un passato matrimonio, in famiglia ora arriverà un maschietto. Sono incinta di cinque mesi e mezzo. Mi sono reclusa questa estate con mamma, ho provato a vivermi questo momento da sola, con i miei familiari, non volevo rendere la gravidanza pubblica troppo presto. Il 14 gennaio dovrebbe nascere. Romina Carrisi a Verissimo, ha raccontato di aver scoperto di essere in dolce attesa mentre era in Croazia dalla sorella. Avevamo appena finito di registrare quattro volte venti, mi sentivo assonnata. Arrivai in Croazia da mia sorella, ero in ritardo. Così feci il test di gravidanza. Chiamai subito Stefano che era in Bangladesh per lavoro, scoppiò in una risata di gioia. L'amore con Stefano Rastelli è iniziato circa un anno e mezzo fa, lo volevamo entrambi. Stiamo insieme da un anno e mezzo, abbiamo iniziato a convivere subito. Io mi trovo a mio agio con lui, per me è perfetto nelle sue imperfezioni. Lui è presente, mi ascolta, riesce a capirmi. Non c'è dono più grande. Lui è padre di due figlie, nate da un precedente matrimonio. All'inizio avevo timore di iniziare una storia con un uomo già impegnato, però ho trovato dall'altro lato un uomo molto intelligente, capace di poter gestire ha spiegato l'attrice. Romina Carrisi è felice di diventare mamma, ma non ha nascosto di avere timore. Ho aspettato tanti anni per diventare mamma, ma non sono pronta. Ho paura ma ho un sistema di supporto, mia sorella starà con me, mi aiuterà. Poi c'è la mamma. Quando sono rimasta incinta era molto entusiasta. Papà all'inizio mi disse una parola pugliese irripetibile, è molto contento, premuroso, mi accudisce più del solito. La figlia di Albano e Romina Power ha rivelato di aver abortito tempo fa perché non si cura della relazione che stava vivendo. Sono all'antica. Penso sempre che un bambino debba avere una madre e un padre. Mi è capitato di abortire perché volevo creare una famiglia, non volevo essere una mamma single. Mi trovai costretta ad abortire, per me era estremamente importante trovare l'uomo giusto. Fu difficile. Ogni donna però deve poter decidere cosa fare del proprio corpo. Avere un bambino è un atto di altruismo. Stai dando la tua vita ad un altro essere umano e devi essere pronto. Avere gli strumenti giusti per poterlo crescere. Romina Carrisi, ha lasciato alle spalle un passato difficile segnato dalla separazione dei genitori. Non auguro a nessuno le esperienze che ho provato a 14,15,16 anni con questa famiglia divisa e con papà che ne aveva creata un'altra ed oggi è felice. Anche grazie all'amore per il suo Stefano.